Buongiorno a tutti, sono Stefania Logatto e sono doppio diamante nell'azienda in cui lavoro, che è Genes Global e oggi voglio parlarvi cosa penso dopo dieci anni di carriera nel network marketing, cosa penso di questa professione perché purtroppo sempre di più vedo persone confuse, vedo persone che non capiscono ancora veramente che cos'è il network marketing e una delle ragioni è proprio colpa di aziende che si fanno chiamare network marketing ma che in realtà o sono schemi ponzi o che sono aziende illegali o che sono aziende che comunque non vendono un prodotto di base e quindi poi creano grandissimi problemi a tutti noi io oggi non voglio solo parlare della mia azienda che chiaramente amo e adoro perché se sono qui dopo dieci anni è perché ho scelto questa azienda e non potete immaginare quanto offerte anche indecenti ricevo per cambiare perché poi quando diventi un network di successo sembri un po' come un calciatore nel senso che ti cercano di cacciare, di riprendere te e magari il tuo team in altre aziende però a parte la mia azienda in generale voglio dirvi perché il network è una grande professione prima di tutto il network esiste da più di 100 anni quindi non è una novità capisco che per molte persone magari non lo conoscete ma è una professione che in America ormai io penso che se non sbaglio con i dati, questo video non mi sono preparata, sto andando molto autentica senza aver creato nessun punto però quello che io posso dire è che credo che forse una famiglia su tre ha un prodotto di network dentro la loro casa e utilizza prodotti di network marketing e che mi sembra che una famiglia su cinque fa network marketing un dato che sono certa che è che l'82% delle donne che fanno più di 100 mila dollari all'anno in guadagno in guadagni lo fa attraverso il network marketing quindi diciamo che è super super conosciuto viene insegnato all'università, viene insegnato alle superiori grazie a Dio questo sta succedendo anche in Europa tra cui in Bocconi e quindi questo mi rende felice pertanto è vero che la nuova generazione, i giovani non hanno tutti i preconcetti che abbiamo noi però anche loro sono attaccati dai network fuffa comunque tornando al discorso di quanto questa professione è spettacolare fatemi dire un po' delle ragioni perché io la trovo incredibile una delle cose che amo del network è che lo puoi fare veramente dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi il poter lavorare non solo da casa ma anche volendo io adesso in questo momento vivo a Dubai ma anche dalla spiaggia, dalla piscina, io ho provato a fare delle zoom in posti immaginabili mentre magari anche stai facendo delle cose con la tua famiglia ti allontani per un'oretta, per un paio d'ore ovunque sei in una gita familiare e puoi lavorare, non hai orari da ufficio, non hai capi, non hai restrizioni su quando e quando vuoi lavorare nel senso che se sei comunque impiegato devi chiedere magari al tuo capo quando fare le vacanze magari devi chiedere al tuo capo quando andare a fare l'esame del sangue no nel network tu sei libero, certo come sei libero di fare è anche uno dei problemi più grossi che abbiamo cioè che visto che non dobbiamo tirare il cartellino, visto che non abbiamo capi, poi molte persone non fanno azione e non hanno risultati, però la cosa positiva del network marketing è proprio lavorare negli orari che tu vuoi ad esempio io amo lavorare di notte, mi chiamo lo gatto, sono i miei figli e dico mamma sei come un gatto io di notte mi sveglio e quindi grazie a Dio vivo tre o due ore dipende dal fuso orario avanti ad esempio dall'Europa o comunque dall'America e magari la notte fino alle due di notte lavoro in zoom però poi se la mattina voglio svegliarmi alle 10 e con calma poi andare in palestra più tardi lo posso fare. Un'altra cosa bellissima del network marketing è che sei un imprenditore ma non devi preoccuparti di investimenti, grandi investimenti, sì l'azienda ti chiederà, qualsiasi azienda network ti chiederà di comprare del prodotto ma il prodotto è per te stesso da provare per poter conoscere cosa condividere, per poter conoscere di cosa parlare ma allo stesso tempo non hai costi imprenditoriali sappiamo che se tu oggi apri un semplice ristorante magari se vai break even e mi auguro che appunto ce la faccia non fallire comunque ci vogliono tre anni e così tanti altri tipi di business da noi quanto può costare un pacchetto di entrata per provare anche se compri tutto il campionario tre volte costa 3000 dollari o 2000 dollari o 1000 dollari se il campionario solo per te quindi veramente si ha la possibilità di diventare dei grandi imprenditori di avere dei guadagni immaginabili e adesso non sono qua a promettere che tutti diventeranno milionari non faccio parte di questi networker che anche lì non sono solo le aziende che sbagliano ma a volte sono proprio le persone che promettono guadagni facili che promettono guadagni veloci che promettono alle persone di iscrivere due o tre amici e diventeranno ricchi quello anche è uno dei problemi che ha il network marketing che purtroppo lo possono fare tutti io sicuramente non faccio parte di questo tipo di network però io sono la prova e tanti anche i miei leader che in questo business si possono anche arrivare a guadagnare delle cifre incredibili ma partiamo dai 1000 euro al mese passivi io penso che in questo momento per come va il mondo avere varie entrate è importantissimo e l'entrata di un'azienda di network è fondamentale per qualsiasi famiglia che poi si può lavorare anche in coppia si può lavorare coi figli poi chiaramente quei 1000 euro se lavorati bene se funziona il sistema se fai parte di un'azienda che paga bene che ti aiuta a duplicarsi perché poi la parola duplicazione puoi arrivare veramente a crescere i tuoi guadagni o sicuramente non sei limitato da nulla non sei limitato da un capo che ti dice se e quanto tu vali tu decidi tu quanto tu vali tu decidi il tuo limite tu decidi con chi lavorare quanto lavorare io lo dico io ho lavorato tantissimo non avevo tanto tempo era una mamma sola con tre bambini piccoli chi è mamma mi può capire uno ne aveva quattro quindi assolutamente non indipendente poi stavano passando comunque un divorzio quindi erano anche emotivamente molto difficili però avevo un grande perché e ogni stand poi lavoravo part time in un centro estetico dove prima facevo la signora poi col divorzio mi hanno assunto quasi per pena part time però comunque lavoravo anche il sabato e quindi diciamo che cosa mi ha spinto a continuare è stata la mia situazione ma non avevo tanto tempo per farlo ok io usavo il tempo però libero non per guardare netflix non per star a mia storia non per andare anche un caffè a chiacchierare del più del meno con le mie amiche ma per fare l'attività sapevo che comunque l'attività che ci vuole da uno a cinque anni io ci ho messo io ho messo un anno e mezzo arrivare a guadagnare bene quello ci tengo a dirlo perché oggi vengo considerata forse l'italiana più pagata al mondo nel network marketing o anche forse l'europea non dovrei dirlo io queste cose però lo dicono ma la verità è che io ci ho messo un anno e mezzo arrivare a guadagnare delle cifre importanti importante intendo a dire magari 5 10 mila euro al mese non sto parlando di grandi cifre poi chiaro che c'è l'effetto leva c'è l'effetto di applicazione quindi tutto ciò poi avviene poi non dipende assolutamente solo da me che sia chiaro io non sono qua a cercare di dire che sono più brava la migliore spesso gli haters mi dicono a ma tu non hai inventato nulla a parte questa cosa di credere negli altri amare gli altri questa è una cosa che a me è venuta naturale ma io non ho mai voluto dire non ho mai detto di aver inventato nulla anzi proprio perché avevo un atteggiamento io non ho mai lavorato ero solo una mamma e spiegatemi cosa devo fare come una bimba prendevo parola quello che mi dovevo fare non ho reinventato la ruota e ho fatto l'azione che mi veniva detta di fare quando iniziato io era un lavoro soprattutto offline quindi ho fatto un sacco di eventi ho speso anche tantissimi soldi per spostarmi in treno per spostarmi negli alberghi affittare le sale offrire magari appunto ai tuoi leaders una pizza ogni tanto quindi diciamo che all'inizio è stato veramente un lavoro imprenditoriale dove io quello che guadagnavo lo rinvestivo a volte rinvestivo anche più di quello che guadagnavo però sapevo da imprenditrice questa è stata una delle cose anche se non ero una imprenditrice quando ho cominciato perché ero solo una mamma ma avevo un papà e un e un ex marito che erano imprenditori e quindi mi hanno sempre segnato che nell'imprenditoria devi seminare 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 per poi raccogliere e così ho fatto e dopo quattro anni ho guadagnato il mio primo milione di dollari in un anno di commissione e lì poi ho preso un oscar e poi le cose sono andate a esplodere oggi non ho voglia non c'è bisogno di dire i miei guadagni quello che vi posso dire è che dopo dieci anni di questa attività se fosse tutto una fuffa se fosse tutto un inganno se fossimo noi a quelli in alto a rubare i soldi delle persone sotto a far lavorare no che solo noi in alto guadagniamo allora intanto io sono in un'azienda da sei anni anche se faccio un atto da dieci questa azienda ha assorbito la mia azienda quindi sono in questa azienda da sei anni quindi per undici anni perché genessa a undici anni ci sono state persone che hanno hanno cominciato prima di me hanno avuto ottimi risultati prima di me però visto che è un business assolutamente meritocratico e non è una piramide io mi sono iscritta in genessa sei anni fa e ho superato ad esempio tutte le donne nei paesi arabi in europa e non so quali altri paesi quindi non è una piramide ci sono persone nella mia rete che a loro volta guadagnano tantissimi risultati e quindi non è assolutamente vero e se fosse tutto una fuffa se fosse tutto qualcosa di momentum di emozione secondo voi dopo dieci anni io potevo avere l'anno il mese più forte della mia vita solo due mesi fa il mese di febbraio che aveva solo 28 giorni continuiamo a crescere e questo soprattutto grazie a un grande prodotto qui chiaramente voglio specificare la mia di azienda ma sono certa che ci sono anche altre aziende di network marketing hanno grandi prodotti ma quando c'è un prodotto di base che le persone possono consumare che le persone amano che i clienti che è fondamentale capire l'importanza del cliente perché ragazzi voi potete reclutare 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 ma se nessuno compra se nessuno vende se nessuno consuma questo prodotto tu guadagni zero ok non sono appunto gli altri gli altri netto che sono ponzi quindi alla fine qui l'importanza del prodotto l'importanza che le persone usano il prodotto e grazie a dio il nostro prodotto le persone lo amano lo vogliono lo richiedono quando è sold out c'è disperazione totale e finisce perché se lo guardiamo a livello di business ok è bellissima questa cosa che comunque tu questo prodotto lo dovevi riordinare per noi che facciamo il business perché comunque è un continuo reddito passivo cioè tu non devi più dire alle persone compralo se lo comprano loro direttamente e questo poi il potere del network marketing il network marketing è bellissimo perché una volta che tu costruisci un team solido duplicabile che si duplica in maniera semplice il tuo codice crea un reddito non solo a te passivo ma è redditabile ai tuoi figli ai tuoi nipoti la decisione che ho fatto dieci anni fa di non ascoltare tutte le persone che mi hanno detto di no a primis anche la mia famiglia che oggi è molto orgogliosa di me ma che ai tempi mi ha fatto molta guerra è stato proprio il fatto che io cioè questa decisione che ho fatto mi ha veramente cambiato la storia mia dei miei figli e dei miei nipoti e chissà quanto di più perché in questo momento lascio stare solo i soldi che ho già potuto guadagnare gli investimenti che ho potuto fare perché ragazzi poi sì che potete fare gli investimenti potete anche giocare a comprare qualche nft e se sei fortunato come lo abbiamo fatto noi col board ape anche arrivare a guadagnare parecchio da queste cose ma sappiamo anche che tante sono ad alto rischio o comunque misteri in cripto che in questo momento che sto registrando comunque questo video la cripto è crollata e perché dico queste cose che se una volta che hai un cash flow sicuro da qualcosa sicuro allora puoi comprare appartamenti affittarli allora puoi investire anche in cose ad alto rischio che magari ti danno tanto ma non puoi senza aver guadagnato senza non avere questi prodotti questo questa entrata fissa mensile grazie anche al network rischiare così ed è per quello che io un po' lo dico a tutti ma soprattutto alle donne ragazze siamo fatte per questo business usiamo il prodotto diventiamo prodotto del prodotto condividiamo il prodotto e condividiamo l'opportunità a tutte le età io oggi ho ragazzi che si scrivono con il consenso della mamma a 15 anni ha 15 anni dentro la mia rete e lavora chiaramente studia va a scuola ma fa part time e ho persone di 79 80 anni che hanno risultati anche loro non ci sono non c'è età ma per adesso voglio parlare specificamente alle donne questo business è perfetto per noi donne potete lavorare da casa potete vedere i vostri bimbi crescere io mamma mia quante ragazze che allattano che entrano in zoom chiaramente mettono la camera un po' in alto o coprono la testolina la spalla con un pannino e possono allattare possono lavorare mentre hanno il loro piccolino di fianco che dorme comunque noi siamo perfette per il network dove siamo pagate per parlare io una ho sempre rotto in famiglia per sempre parlato tanto adesso mio padre c'è almeno è servito a qualcosa la tua parlantina quindi amiamo parlare siamo delle comunicatrici amiamo aiutare siamo multitasking ragazzi solo noi o credetemi ho tre figli maschi e se giocano al computer devo richiamarli tre volte per venire a cena ma la donna no la donna è capace di stirare far da mangiare allo stesso tempo parlare con qualcuno e guardare una zoom noi siamo incredibili siamo pazzeschi siamo forti alla fine dio ha scelto noi per fare i figli ed è per quello che io penso che stiamo creando veramente creeremo nei prossimi dieci anni una rivoluzione a livello italiano europeo come già è successo in america dove il presidente bim clinton addirittura ringraziato i networkers nel mondo quando era ancora presidente quindi adesso non so neanche vent'anni fa forse scusatemi ma proprio non ho questo video è stato molto spontaneo però comunque dove lui ringrazia pubblicamente lo potete cercare su youtube questo video c'è il clinton network marketing ringrazio pubblicamente i networkers per aiutare l'economia e io so che questo movimento questo momento sta arrivando sempre più in italia lo dicevo già dieci anni fa oggi i risultati dimostrano che avevo ragione perché abbiamo creato comunque più di 40 milionari dentro nostro team e ragazzi per avere un milionario nel network vuol dire che sotto c'è una marea di gente che guadagna 5 2 3 10 15 20 e mila dollari io parlo in dollari perché penso con la nostra azienda ci paga così ma poi si trasforma in euro veniamo pagati tutte le settimane la tassazione a livello italiano perché questo team e questo video in italiano la tassazione in italia è incredibile c'è una ritenuta racconto pazzesca che anche se guadagni 100 mila dollari al mese diventa sempre credo un 23 per cento ma informatevi informatevi alla legge 173 quindi veramente io so che magari puoi essere una moglie preoccupata perché il marito t'ha parlato del network può essere un marito preoccupato perché tua moglie torna a casa e magari ha preso 500 euro di prodotto mille euro di prodotti dice ma cosa fai con tutta sta roba ribandare indietro magari se una mamma se un papà dove il tuo ragazzo tuo figlio è venuto a casa tua mamma non voglio più studiare cosa secondo me è sbagliatissima quindi ve lo dico continuate a studiare fate anche network però voglio voglio lasciare tutto e vinterò un milionario un grande network come è successo poi al mio marito il mio secondo marito che ho conosciuto grazie al network marketing che mi ha sposato quando ero veramente senza un euro neanche per andare al supermercato con tre bambini piccoli e insieme siamo cresciuti e lui ricorda che quando a 18 anni è andato al primo evento di network marketing è tornato a casa ha svegliato i genitori perché è tornato tardi perché ha preso mille pullman per tornare a casa e ha detto mamma e papà diventerò ricco col network e i genitori disperati hanno staccato i fili del fil del telefono oggi lui ha 36 anni quindi si parla 37 anni quindi si parla di parecchio tempo fa e gli hanno detto assolutamente non fare queste cose e oggi è il numero uno in azienda quindi perché vi dico questo io spero che con questo video io possa avervi aiutato a capire che il network non è altro che un metodo di distribuzione come c'è il tradizionale dove tu vai nei negozi e compri i prodotti dai negozi c'è il nostro che invece attraverso il passaparola attraverso l'online che vi posso dire oggi è molto più attuale tanto è vero che abbiamo amazon che Jeff Bees è uno dei degli uomini più ricchi del mondo abbiamo ormai social network come instagram come youtube come ttokio ecco io non lo uso sono certificata ma non lo so usare proprio il ttokio per esempio uso tantissimo instagram ho usato tantissimo anche facebook e ogni tanto lo uso ancora dove veramente possiamo creare una rete sociale di contatti non solo vicini a noi quindi possiamo sì invitare a questa opportunità a conoscere questi prodotti anche le persone vicino a noi ma anche persone distanti quindi ecco ragazzi io spero di avervi potuto dare un po di input forse rendervi un attimino anche più sicuri sul network chiaramente dirò sempre che come genessa non ce n'è sarò eternamente grata per tutto quello che genessa ha fatto non solo nella mia vita ma nella vita di tante 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 persone vi ringrazio per il vostro tempo un abbraccio ciao